Hai pesci aggressivi in acquario? Oppure li hai avuti, oppure timi, l'aggressività di alcune varietà dei pesci? Ebbene, oggi vi svelerò tre trucchi di come evitare l'aggressività dei pesci. Io sono Francesco, della Fish OK, dai seguiteci! Come dicevo, oggi voglio svelarvi quelli che possono essere tre trucchi per abbassare l'aggressività in alcune varietà di pesci o magari in pesci che diventano improvvisamente aggressivi. E andiamo a capire, innanzitutto, quali possono essere i metodi per riconoscere quando ci sono pesci aggressivi in vasca. Oltre al classico, chiaramente, inseguimento che si nota in vasca di un pesce che insegue un altro, altri possono essere dei comportamenti o dei sintomi, dei segnali, mettiamo così, che possono indicarci che ci sono dei pesci aggressivi. Magari dei pesci aggressivi notturni, che quindi non ci fanno rendere ben conto di quel che può succedere durante la notte e che invece vanno a dar fastidio un po' ad altri ospiti del nostro angolo di natura. Quando notiamo, per esempio, dei pesci che rimangono intimiditi in un angolo ma non mostrano alcun segno di malessere fisico, ma più che altro psicofisico, nel senso che sono in salute, stanno bene, ma sono rintanati in un angolino impauriti. Ecco, questo è un segnale che c'è qualcuno che in vasca può dar fastidio. Un secondo segnale, certamente, può essere quando andiamo a notare su più di un pescerino che abbiano appunto delle morsicature, quindi delle pinne in cui c'è un bel taglio netto e allora lì è un bel morso di qualche altro pesce, quindi questo è un secondo sintomo certamente. E poi, appunto, come dicevamo, i pesci che si rincorrono eccessivamente in vasca. Ebbene, questi sono i sintomi con i quali ci aiutiamo a riconoscere l'aggressività di varietà ospiti del nostro acquario. Ma andiamo a svelare quali possono essere tre trucchi, secondo il metodo FishOK, che possono aiutarci ad attenuare l'aggressività. Premesso che ci sono dei pesci che sono di natura aggressiva, vedi, non so, i cicli di africani, o magari dei predatori, non so, come i piragna famosissimi o altri pesci predatori, chiaramente questi hanno un discorso a parte. Ma anche tra di essi l'aggressività può essere smorzata, può essere assolutamente attenuata. Come fare? La primissima cosa, ragazzi, è non tenere pesci di una singola specie in vasca. Per esempio, andiamo a acquistare dei pesciolini, ricordiamoci che, come magari anche in altri video precedenti, e vi lascio qui il link in descrizione, ricordatevi che quando si scelgono i pesciolini non bisogna acquistarne possibilmente uno solo per varietà, ma bensì più una coppia o più esemplari, magari un branchetto, di esemplari di quella specie. Perché quando ci sono due esemplari della stessa specie, a differenza di quando ci sono dei pesci singoli, cosa succede? Possono interagire tra di loro. Se sono di sesso differente interagiranno per la riproduzione. Se sono dello stesso sesso magari per il territorio, ma sarà una cosa limitata tra di loro. Ok? Quindi, attenzione, la cosa interessante è non avere mai pesci singoli di una singola specie in vasca. Diventeranno anche i più pacifici, come delle schegge impazzite, che andranno a dar fastidio qua e là anche ad altre varietà di pesci. Va bene? Il secondo trucco qual è? È molto semplice cercare di riportarsi a quelli che sono gli elementi come presenti in natura. Ossia, voi immaginate che anche in un fiume amazzonico esistono predatori delle specie più improbabili, ma come anche per esempio i Serasalmus nattereri o Piragna praticamente, che convivono tranquillamente nello stesso bacino d'acqua, magari con dei caracidi molto piccoli. Quindi di conseguenza, come fanno a sopravvivere tra di loro? Ebbene, la natura è piena di vie di fuga. Legne, radici, piante che consentono la via di fuga ai pesci che si sentono predati. Quindi ragazzi, cosa fare? Riprodurre in vasca le medesime condizioni. Cercare di avvicinarci il più possibile a quel che è un biotopo geografico, quindi un vero e proprio angolo di natura, piantumato alla grande, con tanti legni e vie di fuga. Vedrete che i pesci avranno le giuste proporzioni per poter eventualmente scappare da pesci con l'indole un po' più aggressiva. Il terzo trucco invece, qual è ragazzi? È cercare di alimentare tutti gli ospiti della vasca in maniera omogenea. Ossia, se lasciamo che alcuni pesci più timidi, più lenti ad alimentarsi, diano spazio a quelli invece più veloci, più vivaci, più aggressivi, di conseguenza quelli più timidi cosa faranno? Non andranno ad alimentarsi dovutamente. Quindi attenzione, un trucco è cercare di alimentare tutte le varie specie di pesci presenti nella nostra vasca. Quindi magari inserendo un po' di cibo in un angolo, poi in un altro, pasticche per i pesci pulitori di fondo e quant'altro. Anche qui ragazzi c'è un altro video che nei nostri centinaia di video sul nostro Fish OK Channel che chiaramente potranno andare a darvi il giusto metodo per poter alimentare correttamente i pesci e quindi di conseguenza anche cercare di abbassare quella che è l'aggressività tra i pesci in vasca. Quindi ragazzi, ricordatevi che in realtà non esistono pesci aggressivi ai quali non si può porre rimedio. Anche a gruppi di piragna che tra di loro tendono ad inseguirsi in vasca o a cicli di africani che sappiamo bene essere molto territoriali. Ragazzi, i trucchi sono quelli che vi ho appena nomenclato e metteteli in atto. Va bene? Spero che possano esservi stati utili questi trucchi. Metteteli in pratica se avete dei pesci aggressivi, del comportamento aggressivo. Agite, agite, tanto è la nostra passione. Mi raccomando ragazzi, continuate a seguirci. Siete sempre più numerosi e vi ringraziamo. Interagite con noi, seguiteci sui nostri social, siamo ormai presenti dappertutto. Iscrivetevi al nostro canale Fish & Key Channel e spuntate la campanella in modo tale che sarete avvertiti per centinaia di video che ogni settimana vengono fuori sul mondo della nostra passione. Ciao ragazzi, alla prossima! Ciao!